Buongiorno a tutti, buon mercoledì 21 dicembre. Ormai l'alberello è veramente spoglio. Andiamo a vedere cosa ci riserva l'abbinamento quotidiano. Oh, mamma mia, super interessante. Linguine allastice abbinate al Puy-Fumé del Baron de la Doucette. Quindi andiamo nella Valle della Loira. Puy-Fumé, quindi siamo al 100% Sauvignon Blanc. Molto, molto interessante, il Baron de la Doucette, forse il produttore più famoso del mondo, produce una bottiglia che si chiama Baron d'El, che è considerata forse il miglior Sauvignon del mondo. Però, insomma, dipende sempre anche dalle annate. Comunque, anche volendo considerare quello più giovane, che in questa cosa è del 2020, siamo in una bellissima espressione di Sauvignon. Ha tutta la mineralità tipica di quella zona, veramente un bel vino profumato, intenso, persistente, ha un bel corpo. Ho pensato di abbinarlo alle linguine all'astice, perché è un piatto leggero, ma comunque con un sapore che tende al dolce. Poi dipende sempre dalle spezie che ci mettiamo. Però, insomma, piatto importante e vino importante, ecco, come si dice spesso. Per cui, ecco, qua vale la pena sperimentare. Vi volevo ricordare, come sempre in questi giorni, che tutti i vini sono disponibili sull'e-commerce, ci sono le foto e le descrizioni complete. Non mi ricordo se ho scritto anche tutti questi abbinamenti, però al massimo ne trovate degli altri, va sempre bene così. Quindi, buona giornata, a domani!